Ho registrato questo video e l'ho messo nel canale perché vorrei capire se in questo periodo che sto per calcolare l'indicatore della situazione economica equivalente, come ogni anno in realtà in questo periodo, sono l'unico che si chiede il senso di questo indicatore, che a mio avviso è assolutamente controproducente perché funziona al contrario di come dovrebbe funzionare. L'ISE viene utilizzato per avere accesso a tutta una serie di agevolazioni, la più importante in questo momento, probabilmente la più utilizzata in questo momento, è l'assegno unico, quindi quei soldi in busta paga che vengono erogati e che ha dei figli per aiutare la famiglia a gestire i figli, però con l'ISE si possono avere un sacco di agevolazioni, ci sono i bonus per l'affitto, ci sono i bonus per gli occhiali, lenti a contatto, ci sono i bonus per il brezzo di cittadinanza, ci sono un sacco di bonus. E su cosa viene calcolato questo ISE? Viene calcolato sul patrimonio di chi lo richiede. patrimonio, quindi immobili, capitali, reddito, numero di figli, numero di genitori che lavorano, figli portatori di handicap, quindi chiaramente tutto quello che entra diventa un fattore che aumenta l'ISE, tutte le difficoltà o il numero di figli sono fattori che diminuiscono l'ISE. Solo che in questo sistema c'è un problema di fondo, secondo me, che non ha senso perché praticamente in questa maniera si va a agevolare le cicale senza agevolare le formiche. Perché? Come possiamo vedere in alcuni siti per il calcolo online dell'ISE come questo di PMI.it? Praticamente è chiaro che si mettono i figli e come vi dicevo si mette il valore dell'immobile e il capitale. Intanto si mette se la casa di proprietà e poi si mettono appunto i redditi e i capitali. Però questa cosa è assurda perché cosa succede? Se io faccio bella vita, vado a mangiare al ristorante venerdì, sabato e domenica, fumo sigarette, vado al bar, vado d'estate in albergo 5 stelle, mi compro il telefono da 1000 euro, mi compro la tv di lusso, vado al cinema. Alla fine della fiera cosa succede? Che non ho nessun capitale messo via e non avendo nessun capitale messo via vengo aiutato perché ho un inizio molto basso. E quindi se sono una cicala vengo aiutato. Se invece sono una formica e invece andare a mangiare al ristorante e prendermi l'iPhone a 1500 euro e andare al cinema e fumare le sigarette e avere il macchinone e andare in albergo, cerco di risparmiare e di proteggere il patrimonio della mia famiglia, cosa succede? Che siccome ho qualcosa messo via e magari una casa di proprietà che non mi è arrivata dal cielo, per magia mi è arrivata perché a differenza di altri si è risparmiato qualcosa per investire su qualcosa, l'ISE si aumenta e si viene penalizzati. Ma questa cosa non ha un cazzo di senso perché il senso dell'ISE è proprio quello di aiutare le famiglie più bisognose, ma non ci si sta chiedendo perché queste famiglie sono bisognose. Ci si sta chiedendo solo cosa hanno messo via queste famiglie. Quindi se non hanno messo via niente non ci si chiede se questo deriva dal fatto che ad esempio hanno avuto una malattia in casa, un terremoto gli ha distrutto la casa o sono stati derubati o cose del genere. Si chiede solo quanto hanno, ma non il motivo. E quindi per conto mio l'ISE calcolato in questa maniera è una cagata pazzesca, proprio perché si invita la gente a fare la bella vita per venire poi anche aiutata e quelli che si mettono via qualcosa non vengono aiutati perché si sono messi via qualcosa. È come dire, ah tu vai a scuola non serve che studi a fine anno perché ti aiuto perché sei in difficoltà. Tu invece hai studiato, stai andando benino, allora ti penalizzo per aiutare quelli che sono in difficoltà. Secondo me questo indicatore non ha assolutamente senso. Fatemi sapere voi cosa ne pensate e se sono io che la vedo da un punto di vista sbagliato. Ciao!